Allora, premetto vuol dire che questa notte io non ho chiuso occhio, non ho dormito perché ieri è successa una cosa molto molto brutta e spiacevole per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche la mia ragazza, infatti mi sento davvero in colpa per tutto quello che è successo, io ho postato una foto su Instagram, l'avete vista tutti, per me non è facile spiegare una cosa del genere perché ho sempre pensato che non potesse accadere quello che appunto ieri è accaduto e mi sentivo in dovere di registrare un video al riguardo. Dove spiegavo un attimino quello che era successo a grandi linee, non solo coloro che hanno commentato la foto su Instagram, bensì anche tutte le persone che mi hanno chiamato, mi hanno mandato dei messaggi in direct su Whatsapp che erano preoccupati, no, non sono stato picchiato se è questo quello che pensate e non c'entra niente il discorso dell'aver messo incinta Federica, non so come avete fatto a pensare a una cosa del genere però qualcuno tra l'altro era anche contento, magari ecco i miei haters voi eravate contenti ed entusiasti di vedere delle ferite sul mio corpo quindi che tra l'altro sono... che non sono delle ferite, sono dei lividi sostanzialmente. Sono dei lividi. Che è successo? Qual è tutto il senso dell'accaduto? Ieri notte ho registrato un altro episodio di Nascosti tutta la notte. non lo volevo neanche fare io all'inizio perché viste le cose che erano accadute soprattutto con il video del supermercato siamo andati in un negozio d'abbigliamento, ok? Un grande negozio e abbiamo trovato una situazione che... io ce l'ho tutto il filmato, io il materiale ce l'ho tutto. Tutto quello che è successo, tutto quello di cui io sto parlando in questo preciso istante ce l'ho tutto sulla videocamera. Il punto è che non ve lo posso far vedere. Oggi è una giornata un po' particolare perché non so, non so se i proprietari del negozio mi denunceranno, non lo so. Sto aspettando una telefonata, sto aspettando una chiamata attualmente e non so come andrà a finire. Questo non è finito come il video del supermercato, non c'entra proprio niente. Avete presente il video del supermercato? Scordatevelo proprio perché non ha niente a che fare con quel video là. Questo video non lo so, è una cosa che non mi è mai successa, è una cosa che non mi è mai capitata e io adesso sono arrabbiato con me stesso, ce l'ho con me stesso, sono deluso da me stesso perché è una cosa del genere. Sto con l'ansia, non so oggi che cosa succederà, non lo so. Sto aspettando questa telefonata. Se mi danno l'ok, se mi danno il permesso, quindi che è tutto a posto e magari tornano indietro sui loro passi e... Però non lo so, non lo so se questo video lo vedrete mai. Me lo sono rivisto tutta la notte, tutta la notte, che poi lasciamo stare la notte precedente, guardate, è successo de tutto. Ma tanto alla fine è inutile arrabbiarti, non serve a niente, anche perché il danno l'ho fatto e ora ne sto pagando le conseguenze. il pensiero però di aver messo in mezzo anche Federica mi... mi devasta. Non so come andrà. Non so come andrà. Sono sincero, raga. Spero si concluda tutto nel migliore dei modi e questo probabilmente sarà l'ultimo video di Nascosti tutta la notte. E sinceramente non ho neanche più voglia di registrare video. Dopo sta botta, non lo so, ma... mi ha passata tutta la voglia, non voglio più... non ho più voglia di fare niente, perché ce l'ho con me stesso, so... so proprio deluso da me stesso. Penso che sia la cosa più brutta... essere delusi da se stessi e avercela con se stessi. Spero vivamente che i proprietari del negozio mi diano la possibilità di farvi vedere come mi sento, il mio stato d'animo. Me lo auguro davvero. Grazie a tutti.